Nuovo appuntamento con l'informazione regionale di Radio Studio Centrale in redazione Anthony Di Stefano. È stato un fine settimana all'insegna del Summer Fest. A Catania prosegue una kermess che continua a dispensare magia nel nome della cultura, dello spettacolo e della musica. E mentre non si è ancora spento la eco del concerto alla Villa Bellini dei CCCP accompagnati dai Marlene Kunz ma anche dalla caduta della cenere vulcanica che ha provveduto a far diventare tutto ancora più suggestivo, il weekend appena messo alle spalle non ha affatto tradito le aspettative. Venerdì sera al Palazzo della Cultura il concerto contro la violenza e per la pace. Sabato a piazza Federico di Svevia il laboratorio di musica e danza calabrese. Ieri sera le musiche da manoscritti medievali del XIII e XIV secolo e questa sera tocca al caffè letterario. Un cartellone ricco e che prosegue giorno dopo giorno, sera dopo sera. Un bel momento per distrarsi dai social e dallo smartphone imperante. Il Summer Fest a Catania è soltanto all'inizio. L'informazione regionale di Radio Studio Centrale torna puntuale. Alle prossime edizioni.